Numero 4, la Sardegna Di voce Mi si è presa un pochino di paura Beh forse Parla apposta A questo punto Che si dice a casa Rizzo? Mi dicono di fare come mi sento io Come dice il cuore Che ti dice il tuo cuore? Per ora il mio cuore È per questo pacco È per questo numero Numero 3 Quindi cosa fai? Rifiuto l'offerta e vado avanti Tanto